Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova serie del mio canale, la serie delle teorie di FNAF. Oggi vi vorrei parlare della teoria più conosciuta di Five Nights at Freddy's, la teoria del Golden Freddy. Forse la più inquietante, la più macraba e la più misteriosa di FNAF. Ma, quindi, partiamo subito. Quindi ecco a voi il mistero. Chi è Golden Freddy? Alcuni pensano che Golden Freddy sia Fredbear, il costume di Fredbear, dopo il morso dell'83, che è stato messo in una stanza di FNAF 1. Infatti, a quanto la gente crede, sia Fredbear rimodellato e il costume non sia stato mai più utilizzato. Ed è un modello scartato di Freddy, quindi quello che doveva essere Freddy non lo è più. Questo è il mistero anche che si collega all'endoscheletro di FNAF 2, che compare e scompare quando il puppet non c'è. Quindi questo endoscheletro potrebbe essere praticamente Golden Freddy. Ma adesso passiamo alla teoria. Infatti alcuni pensano che questo essere misterioso sia posseduto da due anime. Primo dall'anima del bambino che ha fatto il compleanno, quando il Purple Guy, nel 1987, ha ucciso i cinque bambini. E l'altra anima è quella di Fredbear, che anche se aveva un'anima, che il puppet gli ha dato e quindi adesso il puppet lo ha fatto rivivere a Golden Freddy. Facendolo vivere tramite l'anima del bambino. Ma dov'è Golden Freddy? Come mai compare nell'ufficio di FNAF 1 così, a caso, senza avvertimenti? L'avvertimento che compare è nel poster di Freddy. Ma perché proprio nel poster di Freddy? Per indicare che doveva sostituire Freddy. Cioè Freddy è la sostituzione di Golden Freddy. Quindi si è messo lui sul poster. Questa ovviamente è una teoria che credo io e che molti altri credono. Che sia lo spirito del bambino e di Fredbear. Ma compare nell'ufficio. Ma sapete la stanza, quella dove viene? Infatti è la cucina. Scott, infatti, ha disabilitato la camera della cucina FNAF 1 per far scoprire ai fans cosa c'era dentro. Alcuni hanno pensato tavoli, frigoriferi. Certo, questo può essere. Ma se in alcuni rarissimi casi si può ascoltare una risata di un bambino nella cucina. Ed è proprio la risata dell'anima di Golden Freddy. Infatti, al suo interno nella cucina, ci sono i costumi di Fredbear o Golden Freddy. E Spring Bonny. Quindi, questo è quello che pensano alcuni. Quindi il Golden Freddy si trova dalla, praticamente, dalla telecamera della cucina. Infatti, questo si può collegare al fatto che nell'UCN vediamo, come animatronico segreto, usando il Death Coins, quando Golden Freddy compare nell'ufficio, vediamo una specie di orso simile al Golden Freddy, ma con il papillon nero e con il cappello viola. Quindi, quello potrebbe essere Fredbear, che però, poco dopo, è diventato Golden Freddy. Quindi, si chiama proprio così, perché è la sostituzione di Freddy quando aveva qualche malfunzionamento dorato. Ma il motivo principale è proprio questo. Perché doveva sostituire Freddy, ma poi sono stati dei malfunzionamenti. Nessun morso dell'87, tranquilli. Quindi, quello sarà un'altra teoria che farò in futuro. Ma come molti sappiamo che Golden Freddy può comparire anche nella notte 6 di FNAF 2, oppure nell'ultimo custom night, cioè, di FNAF 2. Nell'UCN di FNAF 2. Quindi, quello che mi chiedo è, Golden Freddy è stato rimodellato, infatti è molto diverso rispetto a quello del FNAF 1. È stato rimodellato e rimesso in FNAF 2. Quindi, in una nuova pizzeria, ovviamente. Ma, la cosa più misteriosa è la testa del Golden Freddy che si può vedere nel corridoio. Quella è l'anima. Alcuni pensano che è un'allucinazione come di Phantom. Alcuni pensano che è l'anima di Golden Freddy che vuole vendetta. Quindi, ragazzi, questa è la conclusione. Che Golden Freddy è Fredbear. Questo alcuni l'avevano capito, alcuni no. Però i veri fan di FNAF, come me, hanno capito questa cosa dal segreto dell'UCN. Quindi, ragazzi, spero che questo video teoria vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!